novella 57 i fichi brogiotti raccontata dalla luisa vedo vaginanni c'erano tre fratelli in senza babbo in senza mamma e poi ripori non aveva ne manco una capannuccia per dormire dissan tra di loro che si fa è più meglio che si vada a girare il mondo in bosca di fortuna o si tocca qualcosa o si more e allora spenti e moccoli è finita la festa si messe and'accordo e coscienci che a male briga gli ricoprivano principiorno a caso il suo viaggio e campellavano con le limosine ma sempre affamati e strusci una sera che non avevan trovo un balco a dove albergare a buio si fermorno sotto a una quercia vicino alla via e lì stracchi ci si buttano a diacere e subito si appioppano come ghiri a bene che lo stombaco gli facessi a loro arcuccio per il troppo appetito a una cert'ora che non era però levo il sole i tre fratelli furono svegli assieme come da una scossa che gli è successo che gli è successo scramano dice il maggiore gli sognavo che avevo una borsa e ogni volta che ci mettevo la mano dentro e tiravo fora le monete a manciata arci preti veggo chi ho al manaccato l'inganno e io pure dice il mezzano sognavo che avevo una bottiglia e qualunque sorta di vino e di liquore i chiedessi la bottiglia me lo verciava di vizia peccato che la sia una bugia dice il più piccolo e io sognavo d'essere al possesso di un ferraiolo che a metterselo addosso nimo mi vedeva sicché in ogni bottega entravo a pigliare in senza ristio né spesa pane vino roba a mi piacimento da mantenere tutti noi tre ah ma i sogni e in sogni e se fussan veri finirebban le miserie è più meglio ridormire insinua giorno e poi sanderà per il nostro viaggio da affamati i tre fratelli si riaddorme intorno abruzzo lo scionnati in nel mentre che stevano per arrezzarsi che che non è si trovano accanto quel che si erano insognato la notte il maggiore la borsa sempre piena di monete il mezzano la bottiglia con ogni sorta di vini e liquori e il più piccolo il ferraiolo che rendeva invisibile oh vuote quattrini scrama il maggiore e ne dà delle manciate a suo fratelli sa bere disse il mezzano chiedete pure che c'è da accontentarvi per istrada poi il più piccino non entrava per le botteghe alla rifruga e lì piglia pure della buona roba da mangiare i bottegai si vedevano sparire il pane il prosciutto il cascio e non sapevano chi ringraziarsi di simile malestro gli ha re bandato il capo per le mura dalla disperazione quando i tre fratelli sazi e rinvioliti si trovorno a un logo in dove c'erano tre strade disse il maggiore ci sa a partire ognuno da sé in cerca della fortuna ma di qui a un anno si fisserà di farmotto a un posto e se la sorte ci ha assistiti ci si deve fabbricare un bel palazzo e godersela con le nostre ricchezze sì sì tutti d'accordo scramano quegli altri due e fissato il ritrovo ognuno se ne andiede per una di quelle tre strade addio addio e alla rivista il fratello maggiore dopo camminato un bel pezzo per di molti giorni arrivò a una gran città che ci comandava un re amante dei divertimenti e questo re aveva una figliola da marito bella sì ma anche un po troppo sverta e capricciosa si pole dire che nel palazzo reale da un anno all'altro non re imbolavano dallo spassarsi con desinari conversazioni feste e ogni sera c'era sempre un gran concorso di signori e signore paesane e forastiere ci pareva la cuccagna appunto il re deve un ballo e il fratello maggiore volse andarci anche lui e gli fu facile ottenere subito l'invito perché lui con quella suborsa si trattava da principe e già lo conoscevano per un riccone dunque la sera si presenta al palazzo vestito con lusso e per prima cosa si mettiede a un tavolino da gioco e lì gioca pure e sempre perdeva a mucchi le monete ma non si sgomentava perché a frucare dietro la borsa delle monete non gliene mancava mai gli è naturale tutti rimanevano in nel vedere tanta ricchezza e più la figliola del re che in curiosità buono finì con siedersi accanto al giovanotto e principiò a discorrirgli dice ma lei fa dei miracoli sa a dove li trova questi quattrini vuole giocare un po con me co soli a così si parla liberi e lei mi racconta anche da che paese viene non gli parse vero al giovanotto da pettarsi a quel mo con quella bella ragazza e andorno in un canto assieme a un tavolinuccio e il giovanotto perdeva al solito in senza scotersi dice la figliola del re ma che c'ha la cava dei quattrini per le tasche niamo me lo palesa da dove gli nasce questa gran ricchezza a risponde il giovanotto gli è un segreto e non lo posso manifestare ma non sarebbe più meglio di smettere e piuttosto se gli garba divertirsi un po al ballo se rizzano e vanno di viato in sala e ballorno tutta la notte ma per quante moine daddoli e anche qualcosa di più che la figliola del re facessi non gli rinuscì levarglielo di bocca al giovanotto quel che lei voleva sapere alla seconda festa successe il medesimo il giovanotto però si era innamorato della figliola del re e stiedano sempre assieme sicché alla terza festa non potesse stare saldo e si lasciò scappardetto che l'arebbe anche contentata la figliola del re e di fatti finì con i svesciarli e lui possedeva una borsa incantata scrama la ragazza che bella cosa se l'avessi il re mi padre lui pagherebbe senza gravare il popolo che me la fa vedere dice il giovanotto questo può no e la ragazza dunque lei non si fida ad una principessa non gliela porto mica via sa la suborsa gradisco soltanto d'averla tra le mani e se non soppone i vorrei che la vedessi pure il babbo via me lo faccia questo piacere se è vero che mi vuole bene dice il giovanotto senta io son d'accordo anche di fargliene un presente della mia borsa ma a patto che lei divienga la mia sposa in sé non ho io non gli do nulla o fa la principessa non basta il mio consenso per la sua domanda bisogna sapere quel che ne pensa il babbo e può l'essere che se lui vede la borsa dica subito di sì mi lassi provare mi dia la borsa per un momento i vodi l'anzalotto dal babbo e in due salti e ritorno a riportargliela stiedano insomma un bel pezzo attira attira ma da ultimo al giovanotto lusingato con mille daddoli e occhiatine tenere gli viense l'ora del minchione e diede la borsa alla principessa e disparse in un battibaleno e gli ebbe l'allocco un bel aspettare insino alla fine della festa che tutti gli erano partiti e c'era rimaso lui soltanto la principessa non la poté più rivedere quando a un tratto deccoti un servitore che gli domanda con malgarbo al giovanotto che bramatevo qui chi siete dice lui e son quello che ho dato alla principessa un oggetto per mostrarlo al re su padre e gli aspetto che me lo riporti fa al servitore ma che oggetto la principessa non ha bisogno della roba degli altri e massime di uno sbrendolone come voi andate via a malesto che c'è da chiudere il portone il giovanotto si preparava per dire le sue ragioni ma sbucorno dei soldati conderandoli tra le mani e il servitore sbergolò se te non te ne vai ignorante che non sia altro ti tocca un carico di legnate a un simile complimento il giovanotto mettiede la coda tra le gambe e brozzò al paragone del vento piagnendo ma troppo tardi la subuagine e gli conviense in uscire dalla città più poero di prima sicché lassamolo al suo destino per raccontare quel che successe al fratello mezzano anche il fratello mezzano dopo avere girandolato per diversi loghi in cerca della fortuna ed i quattrini non gliene mancava per via della subottiglia maravigliosa finì con capitare alla lì stessa città a dove era vienuto il suo fratello maggiore e l'onvitorno alle feste di ballo del re lui ci andiede con la subottiglia e nei riposi si divertiva a dar da bere a ognuno quello che loro chiedevano la bottiglia ubbidiva pronta al comando a un simile miracolo la figliola del re moriva dalla passione per possederla lei la bottiglia e si mettiede accanto del giovanotto a discorrere a ballare con lui a tirargli l'occhiate brillantine e allusingarlo in un imò il giovanotto stiede tavia duro a non contentarla la principessa a bene che se ne fosse invaguito ma alla terza festa e cascò nel paretaio e disse i sono ideato di regalargliela la bottiglia ma a un patto dice la principessa parli chiaro e se posso soddisfarlo io per me son pronta se il babbo accode sta bottiglia gliela paga quanto vuole chiedesse anche uno sproposito no no dice il giovanotto de quattrini in un no bisogno i bramo che lei mi sposi e ha così la bottiglia sua fa la principessa su questo punto non saperei a rispondere in senza sentir prima il babbo se lui vede la bottiglia può l'essere che non sia contrario me la lassi nelle mani qualche minuto e vò di là a mostrargliela e rivengo in due salte con la risposta insomma dopo un po di battibecco il fratello mezzano gliela diede la bottiglia alla principessa che in un lampaneggio corse via e non la ritornò più sicché quasi a giorno e che la conversazione gli era ita a casa quel mamma lucco di giovanotto steva lì in palato mezzo al salone a aspettare la vienuta della principessa a riportargli la bottiglia e la risposta in scambio apparse il solito servitore che dice o è che ci state a fare voi qui si serra il portone a risponde il giovanotto io ho dato alla figliola del re un affaretto per mostrarlo a su fa e gli aspetto che me lo riporti ma che affaretto bocia con superbia al servitore la principessa non ha bisogno d'affaretti massime per lato d'un villanaccio par vostro via subito se non vi garba un fiacco di legnate e siccome viense in quel mentre un branco di soldati con un bastone in mano il giovanotto dove brozzare alla lesta se non volse le costole rotte e anche lui piagnette ma troppo tardi d'essere stato tanto bue e n'uscì dalla città poi ero in canna non sapendo a dove sbattere il capo e la sammo pure lui e la sua inutile disperazione per ragionare del fratello più piccino con quel ferraiolo al più piccino non gli era mai mancato nulla pigliavan senza che lo vedessano ogni cosa che gli capitava sotto di suo piacimento e della roba e dei quattrini n'aveva stramoggio successe che nel girandolare per i paesi un giorno si riscontrò con su fratelli e si ricognobbano e loro gli raccontarono la disgrazia che gli era tocca alle feste del re siamo rimasti in sull'astrico e sa una fame dal lupi dice il più piccino a me poi la carizia è megnota e vi lasso da accampare per un pezzo perché io ho fatto pensieri di conoscerla anch'io questa principessa sderta e chissà forse rinusco a ripigliarli la roba che lei va a porto via voi altri andate a aspettarmi nel logo indettato bada gli distano i fratelli stascionno perché gli è furba la figliola del re che scramò il più piccino con questo mi ferraiolo in un appunto paura che lei mi chiappi dunque il più piccino arrivo alla città senza invito e col ferraiolo addosso ne entra la sera della festa da ballo in nel palazzo reale per istrolagare in che mo lui poteva riavere la borsa e la bottiglia dei sui fratelli ma il bandolo non lo trovava e siccome gli era un gran caldo si levò il ferraiolo e a un tratto apparse lì alla gente rimasano a un simile miracolo e la principessa si accostò al più piccino per domandargli come lui faceva non essere visto ma sa che gli ha un bel comido di poter bucare dappertutto a così di niscosto che ha qualche segreto a risponde il giovanotto sicuro un segreto ilò ma gli è mio e nullo manifesto dice la principessa parliamo assieme e con delle scuse a forza di lusinghe cercava di metterlo in mezzo il giovanotto per riscoprire il segreto del ferraiolo e poi portarglielo via come a quegli altri sui fratelli la borsa e la bottiglia e se non gli rinuscì quella prima sera e neppure la seconda viense però a capo di farlo infiammire della sua persona e che perdesse il cervello sicché alla terza volta che per il dettato gli è quando si corre il palio e la seppe tanto rigirare la principessa che il giovanotto da ultimo glielo disse d'avere un ferraiolo incantato che tienuto addosso rendeva invisibile scrama la principessa oh se mio padre ne fosse al possesso che bella sorte lui vedrebbe dappertutto quel che gli preme nel regno senza che nimo se ne accorgessi vuole venderlo il ferraiolo il re di certo gli dà una buona somma di quattrini dice il giovanotto ma gli pare è un oggetto che non ha pregio fa la principessa con un'occhiatina tenera allora lo regali a me per pegno del zubene e il giovanotto all'occhito magari se lei acconsente a essere la mia sposa il ferraiolo diventa suo sa in un sono libera del migradimento dice la principessa e occorre sentire il babbo ma se mi lascia il ferraiolo in nelle mani perché lo mostri al re gli è facile che lui non nieghi di contentarlo nella subrama me lo dia pure in senza sospetto vodi l'anzalotto in due salti al ritorno col ferraiolo e la risposta e finì al solito che il giovanotto diede il ferraiolo alla principessa e lei se lo buttò sulle spalle e sparì diviato e non riviense da quel bue che rimanette lì a aspettarla anzino al giorno solo in mezzo del salone sicché di lì a un po' d'eccoti il servitore che gli domanda o rustico che volete in queste parti che ignoranza è la vostra di entrare nel palazzo del re aresti a essere un ladro via è lesto o vi pago a sono di legnate dice il giovanotto non si riscaldi io ho dato un oggetto alla principessa perché lo venga al re e lei deve riportarmelo e però gli aspetto fa al servitore ma che oggetto che invenzioni te mi trovi la principessa non ha bisogno della roba degli altri e non sta in confidenza con la canaglia o te ne vai che vuo chiudere il portone o te risti di buscarne da ricordartene per un pezzo al giovanotto gli principiò a montare la mosca al naso per quelle male parole e poi tardi ve e gli sa persano gli occhi in sul tradimento della principessa e però si mettiede in liti a bono ma di repente decco che sbucano i soliti soldati con un randello tra le mani e senza rembolare scaricano a quel disgraziato una gragnola di botte in sulle costure e tutto macolo e pesto lo pintano a calci fora del palazzo sicché lui gli ebbe dedicati di non rimaner morto e brindellon brindelloni n'uscì dalla città bene scorbacchiato e durò di molta fatica a riscontrarsi su fratelli in nel logo fisso per l'avanti figuriamoci se li girava a quei tre che per essere stati tanto mammalucchi gli avevano perso ogni loro ricchezza poeri meschini più che prima con una fame da non si dire e al più piccino poi gli era tocco anche peggio un carico di legnate ma di quelle mogi e imbronciti e senza parlare si buttorno a siedere a piede un muro e ognuno non se faceva la sua meditazione su quel che gli era successo e non sapevano proprio che pesci pigliarsi per tirare innanzi quando dopo un bel pezzo al maggiore li viense volto gli occhi in su e vede che in vetta del muro sporgevano due piante di fichi brogiotti ma di quei belli appetitosi una pianta di neri con la camicia strappata e una pianta di bianchi scrama oh chi ce li abbarbi lassù quei fichi se di anzi non verano alla sua voce i fratelli si scionnano e il più piccino disse qualcuno che ci assiste c'è al manco da cavarsi la fame niamo facciamone una scorpacciata non ebbano che da allungare le mani e colsano un fico nero per uno e lo mangiorno ma a male brighe ingollo deccoti che a tutti gli cresce il naso lungo per un sesto di braccio oh il minaso il minaso principiano a urlare e ora che si fa con questo zingone in mezzo al grugno bociò il mezzano e con la fame che ci divora aggiunse il fratello più grande dice il più piccino s'anderà per il spettacolo attraverso il mondo e a così si guadagna il campamento ogni male al suo rimedio in frattanto imi leverò la fame di dosso con fichi bianchi si vedrà quel che succede di peggio ma appena mangio un bianco il naso gli ridivienza al suo naturale e parimente a suo fratelli scrama oh decco trovo il modo per gastigare quella birbona di principessa e d'obbligarla a rendermi la roba che ci ha porto via per tradimento aspettatemi qui voi altri due e si rinusco può l'essere san ritorna ricchi e si fabbrica al palazzo per starci assieme tutta la vita e a comidi duppi e neri di separati di brogiotti neri e di brogiotti bianchi se gli infilzia un di qua e un di là nelle braccia e s'avvian verso la città e lì arrivo e messo in custodia un'osteriuccia da poeri il pianeri dei fichi bianchi va con quell'altro sotto il palazzo del re a sbergolare con quanta lui n'aveva in gola fichi brogiotti neri belli e gli hanno strappa la camicia ue chi ne vuole roba è fora di stagione e prematiccia a un simile urlio s'affacciò la camberiera della principessa e vista quella ghiottornia corsi a domandargli se gli garbava a comperarla sì sì dice lei pigliagli tutti sicché dunque a una grazia l'uno la camberiera gli ebbe il pianeri dei fichi neri e il venditore allegro e contento andiede a niscondersi all'albergo e sempre in sull'antesa del successo guà la principessa in su fichi ci sabuttò che pareva un gatto al cento pelli e non si accorge del naso che gli cresceva unifico sino a che non fu lungo per un terzo di braccio oh meschina me oh che disgrazia che birbonata la bosciava per le stanze del palazzo e il re e la corte corsano a sentire quel che gli era intravvienuto e vedano la principessa ridutta come un mostro e disperata a quel mo tutti ristorno male il re comandò che subito cercassero del venditore dei fichi per ammazzarlo ma lui non fu un minchione a lassarsi trovare poi chiamorno i dottori da ogni parte ma loro non furono buoni a guarirla di quel nasaccio la principessa sicché lei da ultimo si mettiede in serra dietro la sua ambera e non apparse più fora e steva note di a piagnere e ramarecarsi